Grazie a tutti i spettatori di Radio Buon Consiglio, a tutti ben ritrovati sulle frequenze della nostra amata radio per una nuova puntata di Spazio Giovane. Siamo ancora all'interno del ciclo di Catechesi dedicato al dono della Divina Volontà, stiamo seguendo l'itinerario volto a ricostruire la nostra esistenza, la nostra vita nella Divina Volontà, rifacendo gli atti. Questa è la 49esima puntata del ciclo di Catechesi in corso, quindi siamo abbastanza inoltrati. Come sempre una breve introduzione per riprendere un po' le file del discorso. E' qualche puntata dove stiamo cercando di spiegare l'operatività del dono della Divina Volontà in ordine alla ricostruzione, diciamo così, al rifacimento della nostra esistenza nell'ambito del Divin Volere. Il presupposto, diciamo così, teologico di base di questo discorso è che, da un punto di vista biblico, noi sappiamo da San Paolo, questo non c'è nessun dubbio, che noi siamo stati pensati prima della creazione del mondo in Cristo per essere santi e immacolati al suo cospetto e alla carità. Questo è un brano del Nuovo Testamento, quindi, così come San Paolo stesso dice che Dio ha predisposto delle opere buone da sempre, perché noi le praticassimo e in essi camminassimo, quindi, cioè, i fondamenti di questo discorso sono assolutamente... Ecco, solo che le opere buone che ci siamo perse, ecco, c'è una bella canzone, faccio un po' un consiglio per l'acquisto, di un gruppo rock cattolico che si chiama The San, molto istruttivo a mio avviso, che si chiama Le Opportunità che ho perso. Ecco, punto. Le scelte sbagliate, tutte quante le volte che nella nostra vita siamo andati contro la volontà di Dio, o semplicemente abbiamo fatto di testa nostra, il che significa fare guai, sappiamo che è cosa su cui di per sé stessa non abbiamo potere, abbiamo soltanto il potere di pentircene se abbiamo fatto qualcosa di male, di invocare da Gesù la sua misericordia, che non manca mai quando siamo pentiti, e per quanto possibile di riparare. Ecco, però nella nostra vita il tasto reverse non esiste, non possiamo tornare indietro nel tempo, possiamo da oggi in poi, come diceva, tanto per fare un'altra citazione eccellente, il buon Gandalf, nella prima parte della trilogia sul Signore degli Anelli, nella Compagnia degli Anelli, possiamo decidere cosa fare del tempo che ci rimane. Questo sì, questo possiamo farlo, ma non possiamo né tornare indietro nel tempo, e l'ingandalf diceva neanche stabilire compiti e ruoli e missioni sul pianeta Terra, insomma, perché quelli vengono stabiliti altrove. Va bene, comunque, finite queste citazioni, diciamo così, culturali, della musica e della cinematografia, torniamo a noi, dicendo che tuttavia c'è un tuttavia. Ecco, queste opere buone, predisposte dalla Santissima Trinità, questa nostra vita meravigliosa, quindi pensata in Cristo, perché fosse santa e immacolata, immacolata, quindi senza addirittura macchia di peccato al cospetto di Dio, esiste, ecco, esiste, allora, impotenza, direbbe Sant'Omaso, nel senso che altro è la vita che ho vissuto e altro è la vita che quella avrei dovuto vivere. E citavo la volta scorsa il mio, il vescovo di merito di Latina, prossimo cardinale di Santa Romana Chiesa, che a noi seminaristi ci faceva sempre discorsetti, sul fatto che il giudizio particolare sarà il confronto tra la vita che abbiamo fatto e quella che Dio avrebbe voluto che facessimo. d'accordo? Ecco, però non esiste solo impotenza, questa è una novità che ci danno gli scritti di Luisa, esiste anche in atto, cioè la mia vita perfettamente vissuta l'hanno già fatta, cioè nel senso che hanno fatto per me ciò che dovevo fare io in tutti i miei atti, Gesù e Maria. Quindi la vita perfetta di Don Leonardo Maria Pompei, così come ci si può mettere il nome di chiunque ascolta queste cose, esiste, non è soltanto come dire una sceneggiatura che è stata scritta, scritta il progetto di Dio, la Santissima, ormai io ho sbagliato copione e questa si era andata perduta, è rimasta in teoria. No, c'è qualcuno che sapeva che noi non siamo molto bravi a interpretare le nostre parti e l'ha fatto per noi. E siccome questo qualcuno ha fatto queste cose in una dimensione che sorvola, travalica la dimensione del tempo, cioè ha fatto tutto nella Divina Volontà, e qui è bellissimo adesso forse se riesco a finire presto questo discorso forse sarebbe bene magari l'ultima puntata fare un botto di quelli spaventosi, cioè di andare a vedere un Alexio Magistralis su un passo bellissimo dove Gesù spiega benissimo che cos'è questo Fiat Supremo, come sia un punto solo in cui è tutto in atto contenuto, cioè anche quello che io sto dicendo adesso è contenuto nel Fiat Supremo, cioè le azioni di chi sta ascoltando la diretta su Radio Buon Consiglio, sta seguendo la diretta Facebook, ascolterà questa catechesi, non lo so, su podcast, su video, come vuole, sono già tutte, cioè sono tutte presenti in atto nel Fiat Supremo, così come nel Fiat Supremo è presente come nell'ultimo secondo di esistenza che ci avrà il pianeta Terra e tutto quanto l'universo, è un punto solo, d'accordo? Ecco, quindi è qualche cosa di pazzesco, veramente impressionante. Allora, dentro questo punto solo c'è tutta la mia vita, d'accordo? Tutta la mia vita perfetta, d'accordo? Quindi certamente per quello che riguarda il presente e il futuro, noi abbiamo imparato, se ci ricordiamo qualcosa, perché insomma questo ciclo di catechesi speriamo che sia servito a qualche cosetta, sappiamo più o meno come orizzontarci, come fare se non vogliamo buttare la nostra vita alla malora, insomma, no? Oppure farla precipitare nel labirinto dell'umana volontà in una tristezza proprio e desolazioni che lasciano sconcertati, no? Io più giorni passano e più sono veramente proprio, non lo so, addolorato, nauseato, disgustato, impressionato, a volte pure impaurito, in senso ovviamente buono, dall'umana volontà. Quindi, ecco, per quanto mi riguarda, io farò il possibile, insomma, poi tra il dire e il fare, diceva un altro vescovo di origini della nostra parte, del clero di Latina, che Monsignor Lambiasi diceva sempre che tra il dire e il fare c'è di mezzo l'amare, non il mare, insomma, però almeno, insomma, i propositi ci sono tutti quanti, no? Ecco, allora, questo ciclo di catechesi consiste nell'andare a riprendere tutti gli atti della nostra personale esistenza e rifarli, quindi, con un atto di volontà, quindi con un esercizio spirituale. Noi, spero che abbiamo imparato, cioè, che quando la nostra volontà si muove non è come dire un blando girovagare e fantasticare, quando ci si muove in questa dimensione si producono degli effetti oggettivi e reali, d'accordo, e grossi, non fa niente che non si vedano, perché quando io consacro, dopo la catechesi, se Dio vuole, che non vedo come sempre loro, andrò a sembrare la Santa Messa, quando io dico questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, non si vede niente, d'accordo, ma, cioè, lo vedono i nostri angeli quello che succede lì, quindi, il fatto che non si abbia percezioni sensibili del nostro operato, e, attenzione, che una divina volontà, questo l'abbiamo imparato, è tutto interiore, non si vede niente, non si vede niente di eclatante, non ci sono cose strepitose, non ci sono sceneggiate, non ci sono niente di tutto questo, non c'è proprio niente. L'unica cosa che si vede della vita di una divina volontà è il comportamento virtuoso di chi vive in essa, che si vedono i cambiamenti percepibili che ha la sua persona e si vedono dai fatti, non dalle chiacchiere e semplicemente si vedono perché non riesce a nasconderli, perché se potesse nasconderli tutti, come faceva fare anche la Madonna, lo farebbe, ma non c'è riuscita manco la Madonna per quanto volesse farlo, perché è impossibile, d'accordo, perché appena io entro in relazione con il prossimo è inevitabile vedere come mi comporto, no? E quindi chi ha occhio lo capisce, insomma, se c'è davanti una persona, un uomo di Dio, una donna di Dio, una persona di spirito, oppure no, no? Ecco. Quindi, oggi proseguiamo con la lista, chiamiamola così, no? Allora, ricordando, adesso poi potrei fare una cosa per mettere queste cose a disposizione di tutti quanti, qui segnatevelo, siccome di queste trasmissioni c'è il podcast sul mio sito www.donaldomaria.it, cioè, questo lo dico per chi segue i video su YouTube, al termine di ogni video c'è sempre l'indirizzo del mio sito, insomma, anche i miei collaboratori lo sanno, non perché voglio fare pubblicità, che non mi apporta assolutamente nulla, insomma, perché lì si possono reperire delle cose utili, per chi crede, alla propria formazione. Ecco, io ho creato uno spazio del genere solo per mettere a disposizione gratuita di tutti, qualcosa che possa a qualcuno, insomma, sembrare utile, altrimenti faccia finta che non esista, non c'è nessun problema, insomma, non sono in cerca di glorie o di pubblicità personali, anzi, mi danno a quanto fastidio quando ci sono e quando soprattutto assumono delle proporzioni, insomma, assolutamente indebili per una povera persona come me. Allora, presumibilmente farò un pdf con queste cose, per cui, quando sarò arrivato alla fine di questo elenco, in questa o nella prossima puntata, mi impegno, a fianco alla podcast della Catechesi, a mettere a fianco anche il pdf, in modo tale che uno possa, con un click, trovare, insomma, tutti quanti gli esempi che sto facendo e usarli come brogliaccio, diciamo così, perché, ripeto, gli atti nella Divina Volontà vanno rifatti personalizzandoli. Cioè, io quando ho fatto questo esercizio, ringrazio il Signore, è chiaro che sono andato a discorrere la mia vita. Certo, gli sguardi ce li abbiamo tutti quanti, ma gli sguardi che ho fatto io, sono quelli che ho fatto io, non sono quelli che ha fatto un altro, no? E certamente alcuni episodi particolari della nostra esistenza, anche che ci facciano un pochino male, ecco, io raccomando sempre, il nostro caro Santo Padre, qualche giorno fa, parlando della confessione, ha detto, io sottoscrivo, non abbiate paura di vergognarvi. Ecco, ma magari ci vergognassimo. La vergogna è una cosa bellissima quando è espressa davanti a Dio. Perché noi, ragazzi, cioè, se qualcuno pensa, tra quelli che stanno ascoltando, che noi abbiamo qualcosa di cui vantarci, cambi canale, d'accordo? Perché io non sono d'accordo. Io so che nella mia esistenza ci sono solo cose di cui vergognarmi, di mie, e basta, d'accordo? Ed è bene questa vergogna non soltanto manifestarla come spero che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita con una bella confessione generale, ma fatta proprio bene, d'accordo? Di quelle che ne esci, proprio che te metteresti sotto qualche tonnellata di terra, dicono a Roma, con aere sola, ecco. Ma è bene rifarla anche nei confronti dell'Altissimo, quando questo esercizio si fa alla presenza di Dio, si fa alla presenza del Fiat Supremo. e se io ripenso a certe cose e mi verrebbe da mettermi sotto terra, dico, ma signora mia, ma tu guarda che dove mi ha portato la volontà umana, che ho combinato, in quel momento in cui io stavo facendo quell'atto, chi lo sa, con cosa tu avresti voluto che facessi, e io glielo dico qui, sostituisco quell'atto balordo che ho fatto con quello che tu in quel momento volevi che io facessi, d'accordo? Ecco, quella che era la tua divina volontà per me in quel momento, scusatemi, questa è veramente tanta, tanta roba, come ho detto, questo non è soltamente un, questo ci consente non soltanto di rimediare parzialmente, perché non tutto quello che abbiamo fatto lo possiamo riparare perfettamente in ordine agli effetti e a volte anche in relazione al nostro operato, perché alcuni guai non sempre sono perfettamente recuperabili, ma quindi possiamo completamente catapultare, qui si parla di rifare gli atti, capite? con l'etimo greco del verbo poieo che è proprio una fattura, è una sorta di nuova creazione, d'accordo? Ecco, certamente misteriosa, anche le operazioni dei sacramenti e dei sacramentali sono molto misteriose, insomma, non sappiamo mica che succede insomma, quando c'è la consagrazione, quando l'acqua santa scende nell'anima di un bambino col battesimo lo sappiamo, ecco, però, questo si fonda sulla redenzione operata da Cristo, ma soprattutto su quello che Gesù e Maria hanno fatto quando erano sulla terra, che è stato il riordino totale di tutta la creazione nella divina volontà e in tutta la creazione ci sono soprattutto le creature umane intelligenti che avrebbero dovuto vivere se il peccato non ci fosse stato perfettamente nel divino volere così come Dio avrebbe voluto che vivessero detto questo andiamo avanti che se no si finisce pure questa puntata la volta scorsa siamo arrivati agli sguardi l'ultimo brano che abbiamo letto è ogni sguardo fatto dal primo fino all'ultimo che farò intendo legarli e affonderli tutti nei tuoi sguardi perché siano tutti divinizzati dai tuoi occhi e dai tuoi sguardi divini noi teniamo presente che fare queste cose cioè quando una cosa si unisce nel Fiat Supremo Gesù lo spiega negli scritti purtroppo poi questo è un ciclo di catechesi sistematico ma evidentemente sintetico se no dovremmo fare 5.000 puntate non 50 per 36 volumi di libri di cielo quindi poi bisogna leggerli cioè quando io entro nel divino volere io sto partecipando delle operazioni fatte da Dio cioè con uno sguardo io partecipo alla creazione dell'universo tanto per dirne una cioè io ripeto molte cose le fa comprendere le esperienze altre cose ci vuole che lo Spirito Santo scenda nel nostro cuore e ci faccia luce perché qui è veramente tanta roba allora passiamo ai pensieri nemmeno un pensiero voglio che non sia rifatto dalla tua stessa mente dal primo aprendo gli occhi alla vita fino all'ultimo che farò tutti i miei pensieri voglio che abbiano vita dai tuoi pensieri dalla tua memoria e dalla tua intelligenza è chiaro che qui su ognuno di questi punti noi poi possiamo fermarci quanto ci vuole a fare questo esercizio a quanto ci vuole ci può volere mezz'ora se uno legge un quarto d'ora ci può volere un'ora ci possono volere due ore ci possono volere quattro ore cinque ore uno lo può dividere in giorni può prendersi un tempo addirittura di ritiro questo non ci sono regole d'accordo perché è chiaro che adesso per esempio ci sarà l'esempio del battesimo il battesimo è stato un giorno della nostra esistenza ma se io voglio per esempio cominciare a fare un po' di giri nei miei pensieri non lo so andare a riprenderne qualcuno qualcuno tra i tanti che ho avuto è impossibile prenderli tutti e magari a titolo esemplificatorio quindi comunque questa è un'intenzione che li abbraccia tutti però proprio riprenderne qualcuno e vergognarmi di qualcuno e rifarne qualcuno nel dettaglio benissimo d'accordo il battesimo che mi hanno dato i miei genitori proseguo intendo solennemente volontariamente rifarlo immergendomi nell'acqua della tua divina volontà perché tu solo sia il signore il padrone il papà il re della mia vita ora e sempre al sonno che tu Gesù hai preso nella culla appena nato perché Gesù ha dormito anche da bebè voglio legare un'ide tutti i miei lunghi sonni di bambino santificarli tutti con il tuo riposo così da non separarmi da te nemmeno nel dormire e ora che non sono più bambino intendo farlo più di allora credo che la volta scorsa non so se in questa sede o se in qualche meditazione non me lo ricordo comunque non si dimentichi cioè la mattina facciamo tutti quanti l'atto preventivo certamente spero altrimenti è inutile che stiamo a lavorare qui ma non si dimentichi a parole nostre di unire alla divina volontà il sonno prima di andare a dormire così come tutte quante le altre azioni non le azioni comune il mangiare il lavarsi il vestirsi cioè cogliere l'occasione per rinnovare gli atti fondersi nella divina volontà eccetera ecco perché ognuno di questi atti attuali produce 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 noi qui dobbiamo mettere in moto una fabbrica divina che espanda tanto di quel bene per quanti montagni dell'età mai insomma abbiamo sparpagliato sia noi e che continuano purtroppo tanti nostri fratelli e sorelle che non sanno quello che fanno a produrre insomma nel mondo ancora abbiamo visto sguardi pensieri sonno i passi ad ogni passo che hai fatto per camminare voglio fondere tutti i miei passi di bambino tutti quelli fatti fino ad ora e tutti quelli che farò fino alla fine della mia vita con il solo scopo di camminare con i tuoi stessi piedi sulla strada della tua adorabile volontà e passo dopo passo camminando nei tuoi passi arrivare fino ai piedi del divino padre perdonargli il mio ti amo ininterrotto guardate che sono le sto leggendo queste queste qui perché sono comunque molto molto belle pensiamo a quanti passi abbiamo fatto nella nostra esistenza e in particolare anche qui personalizzando l'esercizio possiamo pensare quando qualche volta abbiamo proprio qualche volta o tante volte non si sa abbiamo fatto qualche passo per andare dove non si doveva andare sapendo che stavamo andando lì dove non si doveva andare passi viaggi ecco quindi ripeto qui siamo in un mare potenzialmente infinito perché poi la nostra esistenza la tua vita la mia vita sono un unicum sia per quello che è stato e sia per quello che sarebbe dovuto essere capite è la tua è la mia quindi cioè qui siamo proprio nell'ambito del personale 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 bene passiamo alle parole oh qui la personalizzazione ogni parola pronunciata durante tutta la mia vita nella divina volontà intendo cambiarla con la tua voce nella mia in tanti ti amo ti adoro ti ringrazio e ti benedico allora qui permettetemi insomma di fare un pochino una sintesi allora se uno ha detto qualche bestemmia questo esercizio lo deve rifare deve pensare alle bestemmie che ha detto perché le bestemmie devono essere cambiate in ti amo in atti di lode perché non si bestemmia le parolace ovviamente cioè di alcune cose cioè perdonatemi se una persona che vuole una divina volontà e ancora un avesse ancora un linguaggio da trivio cioè che usa volgarità o cose di questo genere cerchi di correggerlo alla grande insomma perché in un figlio del divino volere non ci sono trivialità parolace o cose di questo genere perfezionandosi poi non ci sono neanche espressioni cioè la coscienza poi se si entra di involere ti avverte insomma scadere nel volgare è già andare molto oltre le imprecazioni per esempio quando cominciamo a dire mannaggia qua mannaggia qua oppure diamo dell'appellativo anche senza essere volgari c'è chi bestemmia la miseria c'è chi bestemmia il mondo le imprecazioni non sono sono assolutamente un come dire un una modalità di espressione consona che vi è fuso col divino volere perché noi non abbiamo mai niente di cui contro cui imprecare o lamentarci perché la nostra vita scorre nel divino volere quindi tutto quello che ci capita intorno noi lo accettiamo dalle mani di Dio quindi non c'è nessuna impregazione da fare e quindi queste sono cose che vanno corrette vanno rettificate cioè un figlio di un volere la pazienza non la perde mai come il santo curato d'Ars mai ma non è che non la perde e ricordate sempre che moltiplicare gli atti nella divina volontà purché non sia fatto come dire a pappagallo con un atteggiamento come dire di disinteresse ascetico perdonatemi l'espressione ecco cioè ogni atto che tu fai quindi ogni atto che ti avvicina che ti unisce ha come effetto diretto la diminuzione del tasso di incidenza mi si perdoni delle passioni così come del tasso di potere del demonio sulla tua anima è chiaro che la sensibilità interiore di una persona che fa un cammino autentico nella divina volontà è chiaro che aumenta cioè come vive un figlio nella divina volontà vive in maniera non perfetta perfettissima ma non deve spaventare questo qui perché non è che cioè vive in maniera perfettissima non significa né che sia una cosa che si fa tutto e subito ma è un cammino è una tensione costante non mai tra l'altro perfettamente compiuta ma è una cosa ovvia d'accordo perché Dio se questa è una vita cioè se io comincio a vivere in maniera divina quindi non semplicemente umana come una persona tra l'altro buona o buonissima ma divina ma Dio fa soltanto opere perfettissime vuole fare altre cose capito quindi cioè il raffinarsi della coscienza è un ulteriore effetto della vita nel divino volere cioè alcune cose cioè non te passano cioè subito lo capisci anche se ancora non le domini ci cadi c'hai il difetto c'hai il vizio dopo le avvertici ma che sto a fare ma non esiste proprio insomma non si possono fare queste cose cioè questo è un effetto molto come dire molto serio diciamo così molto significativo del fatto che una persona sta veramente cercando e sforzandosi di entrare nel regno del divino volere perché nel divino volere cioè di peccato non se ne parla nemmeno ma a Dio non si parla neanche di imperfezioni capito quindi cioè quando un'anima cammina in questo mondo se si vede perché certamente c'è un'attenzione ecco quindi qui sulle parole le bestemmie le parolacce le impregazioni le offese al prossimo le maldicenze le maldicenze chi vive nella dina volontà non parla male di nessuno non c'è niente di cui parlare male non c'è niente e nessuno di cui parlare male perché anche quando qualcuno fa qualcosa di male si soffre vedendo quell'atto orrido di volontà umana si prega per lui se ci si può fare qualcosa si può un rimedio ma non si sparla non si critica non si calunnia zero una serie di stili molto diffusi tra i nostri simili devono scomparire non sono cose d'accordo guardate che la vita diventa bellissima non immaginate una persona che viene al Dino come uno che non parla mai che sta lì no no parla bene perché non è che per parlare bisogna chiacchierare o parlare male non parla quando non c'è da parlare parla quando c'è da parlare come dice San Paolo chi parla lo faccia come con parole di Dio per edificare il prossimo cioè tante cose tante esortazioni anche sparse qua e là nella Sacra Scrittura che io per grazia di Dio conosco abbastanza bene qui ritornano tutte quante tutte ci si mettono tutte quante dentro allora altre attività infantili i giochi quanti giochi abbiamo fatto da bambino ma Gesù ha giocato da bambino la Madonna ha giocato da bambina quali fossero i giochi del tempo io non lo so non sono molto esperto insomma di ludologia antica però sicuramente hanno giocato d'accordo e allora noi giochiamo in Gesù e in Maria quindi ai giochi che hai fatto da bambino intendo unire e fondere i miei giochi di bimbo e di adulto e di adulto ogni tanto si gioca non è che un figlio dove sta scritto non farà giochi o sceni non starà tutto il giorno a giochi a carte d'accordo evidentemente non si andrà a vedere film balordi d'accordo certamente ma non è che non fa niente quindi ai giochi che hai fatto da bambino intendo unire e fondere i miei giochi di bimbo e di adulto dobbiamo cioè viene di mia volontà nel mio correre nel mio andare in palestra non lo so nel mio andare a giocare a pallone nel mio andare diciamo andare santamente al mare io vado al mare santamente per riparare anche tutti gli altri che ne so d'accordo le cose nel mio andare a vedere questo bel film nel mio vivere questa serata di distensione ci andiamo a mangiare una pizza con gli amici che queste sono cose che facciamo la vita cioè la vita nella divina volontà attenzione santifica tutto capite vi ricordate quell'espressione di San Paolo che dice a un certo punto pregate incessantemente commenta Sant'Agostino dice che cosa intende qua San Paolo perché se San Paolo dice dobbiamo sta a pregare sempre ecco come fai cioè incessantemente incessantemente vuol dire che non te fermi mai né di giorno né di notte come si fa? dobbiamo stare tutto il giorno a pregare? è certo che dobbiamo di tanti rosari tante cose ma ininterrottamente dice Padre Pio diceva 100 corona al giorno a Padre Pio c'era un dono straordinario per fare questa operazione ma chi ha questo dono straordinario ma che ha da fare? come fa a pregare incessantemente? eppure questa è un'esortazione del Nuovo Testamento come facciamo? così facciamo perché nella divina volontà è tutto santo attenzione non è la stessa cosa se dici il rosario o se te fai una passeggiata perché guardate l'astuzia del diavolo è così grande la cosa dice ah abbiamo assentanto su tutti quanti atti divini e che c'è fa? se vado a fare una passeggiata è come se vado a dir rosario ma no non è la stessa cosa cioè il fatto che si santifichi anche una passeggiata non cambia che la portata santificante dell'atto del fare una passeggiata non è come quella religiosa in senso stretto del rosario questo è evidentissimo questo qui né si perde anche la valenza intrinseca di un atto la sua efficacia impietratoria riparatoria eccetera eccetera non facciamo non diciamo sciocchezze d'accordo? non diciamo sciocchezze però i giochi si santificano i giochi che hai fatto da bambino e ti andorire a fondere i miei giochi di bimbo e di adulto per rifarli tutti con i tuoi affinché in tutti gli splendori si sirio del tuo Fiat attenzione scorre in essi la gioia dei tuoi trastulli divini quante volte Gesù dice negli scritti di Luisa che lui si trastulla lui si vuole divertire guardate che c'è scritto proprio così mi voglio divertire con chi? con te e andava a prendere Luisa e ci stava insieme e amoreggiavano che sembravano due innamorati bisogna andare a leggere gli scritti di Luisa dice io mi devo trastullare cioè io ho creato le creature per trastullarmi per deliziarmi in esse perché io li voglio bene loro mi li vogliono bene io sono contento lo dice Gesù dice proprio così capite non lo sto dicendo io andate a leggere gli scritti tutti dall'inizio alla fine sicuramente imbatterete in tante cose di questo genere io sto facendo e lo dico perché so quello che dico mi prendo un colpo e cioè ieri sera mostro lo ritrovo civicchia mi verrebbe proprio da che in momenti mi prendo un colpo mentre stavo a leggere questa cosa qui e vediamo se riesco a al volo a ritrovarla presto presto perché in momenti mi prendo un colpo allora insomma a un certo punto Gesù sicuramente non 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 lo vado a ritrovare e dice che praticamente insomma appare davanti a Luisa e dice che voleva insomma a un certo punto porta a Luisa un bacio nella divina volontà e poi siccome non era ancora contento se ne fa dare un altro guardate qua volume 18 ottobre 21 1925 questa mattina il mio dolce Gesù nel venire mi ha detto figlia mia ti porto il bacio di tutto il cielo e mentre ciò diceva mi ha baciato cioè ragazzi sintonizziamo bene le antenne e i canali ah questo è Gesù Cristo e poi ha soggiunto tutto il cielo sta nella mia volontà e tutto ciò che io faccio stando essi in questo supremo volero volere sentono l'eco degli atti miei e ripetono come rispondendo all'eco mio ciò che faccio io attenzione detto ciò è scomparso ma dopo qualche ora è ritornato dicendomi voi pensate un po' se va a cadersi a qualcuno di voi figlia mia restituiscimi il bacio che ti ho dato ma ragazzi stiamo 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 capendo perché tutto il cielo la mia mamma il nostro padre celeste ed il divino spirito stanno aspettando il ricambio del tuo bacio perché essendo uscito un atto loro nella mia volontà verso la creatura che vive nell'esilio anelano che sia loro restituito il ricambio nella stessa mia volontà adesso sentite onde avvicinando Gesù la sua bocca alla mia io gli ho dato quasi tremante il mio bacio avvicinando la sua bocca alla mia non dà molti particolari ma ce li lascia immaginare il quale ha prodotto un suono armonioso questo bacio non ho mai sentito che si elevava in alto e si diffondeva in tutto e a tutti e Gesù con un amore indicibile ha soggiunto ha soggiunto come sono belli gli atti nella mia volontà ah tu non sai la potenza la grandezza la meraviglia di un atto pensiamo quanti ne stiamo rifacendo quando andiamo a rifare gli atti nella divina volontà tu non sai la potenza la grandezza la meraviglia di un atto nella mia volontà quest'atto muove tutto cielo e terra come se fosse un atto solo e tutto il creato angeli santi danno e ricevono il ricambio di quell'altro e questo atto fatto nella mia volontà non può stare senza ricambio altrimenti tutti sentirebbero dolore di un atto divino che ha mosso tutti mettendo tutti del loro eppure non ricambiato i trastulli divini questi sono io sinceramente la prima volta che leggevo queste cose come non mi ha preso l'infarto non lo so non mi ha preso fino adesso non mi prenderà più ma qui stiamo al volume 18 insomma quindi ma queste cose compaiono nei primissimi volumi già allora al lavoro altro punto con il quale ha aiutato San Giuseppe Gesù ha lavorato tanti anni ha fatto il lavoro da fare gname ha santificato il lavoro intendo fondere il mio lavoro dal primo che ho fatto nella mia povera vita fino all'ultimo che farò perché tutto sia santificato divinizzato dalla tua volontà onnipotente e tu abbia la gloria di questo atto come se lo avessi vissuto sempre nel tuo fiat divino il lavoro come tra l'altro Santa Madre Chiesa spiega nella sua dottrina sociale come spero che tutti i parroci abbiano recentemente non troppo recentemente comunque predicato nel primo maggio nella festa di San Giuseppe lavoratore il lavoro per noi cristiani è una cosa santa d'accordo perché volontà di Dio è il lavoro è una cosa santa che va santificata e che in essa ci dobbiamo santificare qualunque tipo di lavoro onesto qualunque non ci sono non ci sono lavori di serie A di serie B anzi ci sono fatto un lavoro umidissimo proprio per questo motivo insomma perché nessuno si sentisse mortificato ecco c'è soltanto una cosa che mortifica che è lavorare disonestamente rubare d'accordo o cose del genere questo è degradante ma non ci sono lavori onesti degradanti ecco sono tutti quanti buoni poi quindi il lavoro lo studio chi ha studiato tanto io ne so qualcosina quante ore ha dedicato allo studio tantissime tutte le ore di studio dalla scuola dell'infanzia fino all'ultima che è stato che sarà intendo rivivere rifarle tutte con la tua intelligenza e ti prego di concedermi oltre alla saggezza del vivere delle cose materiali anche la scienza del vivere nel tuo divin volere proprio come lo hai concesso a tua mamma e a Luisa che è la scienza più alta e più importante che esiste bellissima anche questo passaggio rifacciamo ah voglia se il nostro signore perché ha studiato tanto insomma che è arrivato fino alla fine e poi ha dovuto pure ricominciare perché è entrato a un seminario d'accordo e cioè so tante le ore trascorse allo studio tantissime così come tante le ore trascorse a scuola quando tutte quante rifatte queste cose bellissimo no cioè il bello di questi pensierini è che ci aiutano anche a dare qualche piccola personalizzazione qui chiaramente molto lavoro alla nostra fantasia d'accordo molto lavoro alla nostra fantasia e io sono sicurissimo che il signore sia felicissimo di vedere come ciascuna delle sue anime si ricordi che ascolta queste cose che la tua anima è oggetto di amore del tutto particolare da parte del signore il signore vuole sentire il tuo rifare gli atti vuole sentire la tua voce vuole vedere la tua fantasia in azione d'accordo vuole rivedere la tua vita tutta quanta risplendere per questi atti da te coscientemente rifatti al suo cospetto bene poi c'è un'altra cosa nel cibo il cibo il mangiare mangiamo tre volte al giorno nel cibo che hai preso Gesù mangiava e la madonna gli faceva il mangiare buono a Gesù non pensiamo al fatto che non mangiassero mai o che mangiavano soltanto questo è una nostra come dire esagerazione ben inteso Gesù ha fatto 40 giorni di digiuno nel deserto e sicuramente da un punto di vista ascetico sia lui che la madonna conoscevano bene le regole dei maestri di spirito mangiavano per vivere non vivevano per mangiare sicuramente facevano qualche mortificazione sicuramente facevano dei digiuni ecco però come si vede per esempio anche nelle forme di vita più rigorose tipo quelle monastiche almeno di un tempo strette che erano austerissime però se tu andavi in un monastero di domenica di domenica si mangia bene di domenica si mangia bene non si mangia non si strafoga perché non si possono fare i peccati ma di domenica si mangia bene perché la domenica è il giorno del Signore e perché non posso soltanto fare l'austero perché se no mi perdo tutti quanti ti amo di Dio che ha deposto nella creazione cioè la varietà dei gusti sono tanti ti amo di Dio poi noi sappiamo che la nostra natura è disordinata e questo è un punto molto importante a cui dobbiamo fare attenzione perché noi possiamo prendere tutti i ti amo di Dio nel fiat creante del cibo senza fare mai un peccato di cuore il peccato di cuore lo si fa per esempio quando si esagera d'accordo? io ho conosciuto non voglio fare lunghi che non fare pubblicità ma bellissime realtà ecclesiali dove per esempio fanno attenzione alla bontà dei cibi ma fanno anche estrema attenzione alla moderazione cioè può pure mangiare primo o secondo contorno e frutta ma in quantità ristrette perché ti mangi due etti di pasta due etti di carne tre etti di verdura e quattro frutti e il dolce che non avanza che impazzivico le porte questo non è più ricevere il ti amo di Dio questo è andare fuori della divina volontà con un peccato grossolano di gola allora però il cibo di per se stesso è un'attività da portare nel divino volere nel cibo che hai preso tuo Gesù voglio unire e fondere il mio atto di prendere il cibo di tutti i giorni poiché come il cibo materiale nutre il mio corpo attrettanto tu mi nutra ogni istante con il cibo della tua santissima e divina volontà perché mangia il nostro corpo ma mangia anche la nostra divina volontà noi sappiamo ci sono gli scritti i tre pani che sono di origine evangelica non l'ha detto Gesù negli scritti che la divina volontà è alimento per l'anima l'ha detto Gesù nel Vangelo capitolo quarto del Vangelo di San Giovanni Rabbi mangia al termine del discorso con la Samaritana lui risponde ho da mangiare un cibo che voi non conoscete ah sì e quale sarebbe mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera capitolo quarto del Vangelo di San Giovanni quindi non gli scritti di Luisa d'accordo e che il pane primo sia la parola di Dio sta scritta tutta la Bibbia non di solo pane di ora l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio si scrive e che l'eucaristia sia l'alimento dell'anima lo sanno tutti i padri della chiesa dalle origini fino ad oggi quindi parola eucaristia e divina volontà questo è ciò di cui campa la nostra anima e la nostra anima guardate si può farla mentre per il corpo bisogna essere soggetti alla virtù cardinale della temperanza io scherzando dico per l'anima non ci sono limiti cioè l'anima possiamo farla trippare da farla diventare come un povero sovrappeso obeso degli Stati Uniti avete visto quei personaggi un pochino pittoreschi che si vedono insomma ecco a voglia tranquillo non c'è nessun problema se si tratta dell'anima tranquillo non c'è nessun problema obesa quanto vuole anzi ti prego che l'anima mia non conosca altro cibo all'infuori del tuo divino volere magari 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 poi noi abbiamo anche bevuto quante volte beviamo l'acqua durante il giorno anche lì quando si mangia e quando si beve bisogna sempre metterci più lo fai meglio è ogni cibo che prendi scusatemi se sono un pochino stoffo proprio non vorrei che chi ascolta si sentisse mortificato come se fosse un bambino io lo faccio non con questo spirito ma per dare un aiuto allora il ti amo che tu ricevi non lo so da un piatto di pasta asciutta di Dio quindi dal grano e dai condimenti di quella pasta è diverso dal ti amo che ricevi da un frutto dal pesce e quindi ogni portata che mangi se tu ti ricordassi di dire ricevo signore Gesù il ti amo che mi stai dando attraverso questo alimento perché quello è un ti amo di Dio e noi sappiamo quante volte l'abbiamo detto nel fiat creante sono finalizzati a fare questa cosa qui gli atti che escono dalla divina volontà il cielo vuole che noi li riconosciamo e li ricambiamo ricevo il tuo ti amo da questo buonissimo viatto di pasta ci metto il mio ti amo e ti ricambio il mio amore per me e per tutti ci ho le niente a fare se uno poi si abitua quando ti viene sete per bere un goccetto d'acqua ricevo amore mio il tuo ti amo da questa acqua che mi stai donando e lo ricambio per me e per tutti fai la pausa e ti prendi in caffè d'accordo ti fai insieme della croce prima che ti prendi in caffè non ti vergogni davanti a tutti che è una cosa che fa molto mi ricordo una volta stavo ospite da qualche parrocchiano mi offrono un caffè e mi faccio insieme della croce prima del caffè mi guardano ma lei fa il signor della croce anche prima di prendere il caffè e dico che problema c'è qualcosa che non va mi ricordo tutto niente la mano a nessuno ma anche il caffè che è tanto buono il caffè ma il caffè è una creatura di Dio se si coltiva soprattutto in Brasile è una pianta il caffè quindi quello è un ti amo così come lo zucchero se uno ce lo mette dentro e lo si prende e lo si ricambia capito quanto è bello campare in questo modo cioè noi siamo continuamente circondati ma tutta la vita nella divina volontà è un prendere coscienza di queste cose qui e entrare in questa dinamica capite questo è cioè è bellissimo perché si sta continuamente a contatto con l'amore ti dice te capita una giornata storta senza un sacco di difficoltà di tribolazione tu ti metti a mangiare non ti metti a mangiare come un animale capito boffo così mi dimentico no cioè ti metti a mangiare come un figlio della divina volontà e dici vabbè ecco ecco ti amo di Dio vabbè certamente oggi tante cose insomma sono date come sono date però vedi che Dio mi ama e me lo sta dimostrando e lo ricambio e se campa meglio se campa tanto meglio allora mio Gesù voglio dissedare fin dal primo istante di vita la mia anima con l'acqua purissima della tua volontà e dalla mia nascita alla mia morte intendo con quest'acqua divina attenzione lavare il mio corpo non solo bere quando ci andiamo a lavare la mia anima i miei sensi e la mia volontà umana da tutto ciò che sa di terra bellissimo questa espressione che non ti appartiene così che tutto profumi del tuo eterno fiat divino bellissimo no? avanti ancora forse riusciamo a finire le mie preghiere Gesù sono formule sono parole vuote e senza voce le preghiere vocali chi parla per questo voglio farne una sola cosa con le tue preghiere così che le mie prendano la tua stessa voce la tua stessa santità il tuo stesso amore è la tua stessa potenza questo non significa che siamo autorizzati a dondolindo diceva a ciabattare tutte quante le preghiere insomma no? quindi a farle in maniera scellerata ma quando per la nostra debolezza la nostra preghiera diventa quello che è perché siamo stanchi perché siamo distratti da tante cose perché non stiamo con la luna dritta la fatte già tutte Gesù le nostre preghiere in maniera perfetta e che danno perfettamente gloria al padre poi tutti gli amori tutti gli affetti i sentimenti i miei amori i miei desideri di donno o di uomo nella divina volontà intendo rifarli e riviverli con i tuoi stessi desideri con i tuoi stessi affetti con i tuoi stessi amori e sentimenti di Gesù figlio di Dio perché tu possa trovare nel mio niente il tuo tutto che vive la tua stessa vita la nostra vita affettiva sentimentale qui ampio spazio alla personalizzazione anche la Santa Cresima abbiamo visto il battesimo adesso c'è la Cresima intendo rifarla nella divina volontà perché nella fronte dell'anima mia sia chiaro e forte lo stemma bellissimo del tuo Fiat Santissimo e Onnipotente in effetti la Cresima sappiamo che lascia il carattere quindi lascia il sigillo un bel segno di croce che viene fatto sulla nostra fronte lo sfraghis si dice in greco io lo chiamo il tatuaggio spirituale ecco quello che viene fatto nei tre sacramenti che non si possono ripetere il battesimo e la Cresima e l'ordine sacro sacerdozio in particolare un prete è fortunato perché ha quattro tatuaggi uno sulla testa al giorno del battesimo uno sulla fronte al giorno della Cresima e uno su ciascun palmo delle mani quindi i tatuaggi spirituali sono molto più importanti di quelli reali il momo che adesso c'è la fabbrica dei mostri insomma in giro vabbè non parliamo di tatuaggi se no subito l'attenzione si va a distrarre altrove comunque lo stemma del tuo Fiat Santissimo Onipotente perché la Cresima serve a fare di noi soldati di Cristo quindi gente che non conosce altro che vivere secondo quello che Dio vuole ancora tutte le sante comunioni che ho fatte che farò intendo rifarle con la tua santissima umanità nella mia fuso nella tua divina volontà in modo da riceverti nel mio nulla con il tuo tutto in modo da avere nel mio cuore il tuo stesso cuore di Dio che ti riceve per quanto riguarda la comunione io invito a non dimenticare anche quello che Gesù dice di fare nella quarta ora della passione cioè quando Gesù spiega a Luisa che si era comunicato nell'ultima cena e lo invita a fare altrettanto si era comunicato lui ma che te devi comunica affatto non per me ma io in questo comunicarmi ho rifatto tutte le comunioni di tutti gli uomini quindi riparato le sacrileghe rifatte le comunioni fatte male da chi fa senza devozione senza ringraziamento eccetera eccetera ma anche fatte tutte le comunioni non fatte da parte degli uomini da parte chi non va a messa la domenica pur avendo ricevuto questo dono e anche le comunioni non fatte da chi purtroppo non avendo mai conosciuto la chiesa e quindi brancolando in altre religioni non avrà mai la grazia nella vita terrena di poter partecipare a una santa messa e di poter ricevere quel dono infinito che è la santa comunione che noi siamo no privilegiati di più a poter ricevere cose di questo genere no poi tutte le celebrazioni le cerimone le adorazioni gli atti di pietà vissute che vivrò quante sono state speriamo tante veglie di preghiera adorazioni ore sante tutto d'accordo intendo rifare tutto nella divina volontà con la tua stessa santissima umanità come se a celebrare ad adorare e a compiere gli atti di virtù e di pietà ci fossi sempre tu a viverli e a farli in me per chi è sposato il matrimonio che abbiamo celebrato davanti all'altare in chiesa alla presenza del tuo sacerdote intendo rifarlo ricelebrarlo per regare le vite mie di mia moglie o di mio marito con le catene d'oro purissimo della tua volontà divina perché sia come tu l'hai pensato e voluto fin dall'origine della vita il matrimonio è un sacramento bellissimo d'accordo poi per chi invece è un prete o è una suora la mia coordinazione sacerdotale o di consacrato o di consacrata voglio rifarla prendendo in me come vita la tua santissima umanità perché possa ripetere nel mio nulla la tua stessa vita sacerdotale o religiosa che è in te al primo palpito che ha avuto il mio cuore oh passiamo al palpito uno dei degli atti tipici del divinvolere intendo legare il palpito di vita eterna che ha avuto vita nel tuo cuore cuore sacratissimo di Gesù appena cominciato al mese di giugno e senza lasciarmi nemmeno uno intendo rifare tutti i miei palpiti con i tuoi santissimi palpiti fino all'ultimo palpito che farò quando alla fine del mio pellegrinaggio mi chiamerai per unirmi per sempre al tuo palpito di Dio da dove sono uscito il giorno del mio concepimento attenzione a chi desidera farsi poco purgatorio o anzi non farselo proprio per niente immaginate se un'anima che vive nel divinvolere può andare in purgatorio la domanda non è che è retorica di più la meditazione credo di di questa mattina o di ieri mattina diceva questa cosa qua non mi ricordo più insomma è una delle recenti Gesù dice che il desiderio di morire e il desiderio di morire per andare a vivere per sempre con il Signore ordinatamente espresso questo desiderio è chiaramente debitamente vissuto purifica tutto tutto ma lo stesso Santo Alfonso Maria dei Liguori non mi ricordo se nella pratica di amare Gesù Cristo o se nell'apparecchio della morte diceva che una persona non tanto che desidera morire ma che accetta la morte quindi che vive la morte ecco per le cose importanti adesso non voglio uscire di tema che i nostri anziani siano aiutati a ben morire e non le scene in continuazione che non chiamiamo il prete che se no si impressiona una persona che accetta la morte e offre il sacrificio della vita dice Signore io ti offro la morte come atto di obbedienza te tu hai voluto che morissimo come conseguenza del peccato come penitenza per il peccato io questa l'accetto e te l'offro con tutto il cuore lascio volentieri questa valle di lacrime fa niente gli affetti che ho i soldi che ho mette tutte le domande non mi importa niente pronto chiami quando vuoi e Sant'Alfonso dice chi è capace di fare questo non passa per il purgatorio e Sant'Alfonso insomma non era l'ultimo arrivato e non era uno dalla manica larga insomma non era un rigorista tremendo ma era se non ci sono iscritti insomma ecco e anche la vita penitente insomma che ha fatto lui non era uno che la faceva facile no ecco quindi ecco allora il palpito poi tutti i miei pensieri di nuovo fin dal primo che la mia piccolamente ha fatto voglio fonderli nei tuoi pensieri perché anche a volerlo non possa fare mai un pensiero che sia anche solo minimamente diverso dal tuo e così ogni mio pensiero porti l'impronta del fiat voluntas tu questa cosa a mio modestissimo avviso ha una potenza grandissima primo nell'acquisizione del discernimento perché a volte il demano ci tenta d'accordo ma si capisce subito quando si comincia a vivere in questo mondo quando è lui che ci sta esticando con pensieri balordi e noi stiamo combattendo anche se ci sembrano i nostri però stiamo resistendo e non li vogliamo assecondare ma a mio avviso continuare a fondere i pensieri nel divinvole presto tardi guardate che negli scritti di Luisa del demonio si parla pochissimo c'è un passo del volume primo che fa capire una cosa cioè Luisa ha vissuto un tempo anche abbastanza lungo un anno e mezzo due di tentazioni vessazioni diaboliche feroci d'accordo dove il diavolo ha fatto il pazzo ha fatto di tutto per fermarla sta nel primo volume bisogna andarlo a leggere dopodiché superato questo momento era superata alla grande e bisogna vedere come l'ha superato Luisa anche con le stazioni di Gesù il diavolo ha chiuso ha chiuso qualche volta che viene citato viene perché quando si provava a avvicinare a Luisa veniva immediatamente catapultato nell'inferno dalla potenza della divina volontà non ci può stare neanche 30 secondi d'accordo cioè se la madonna viene al diavolo gli dà solo uno sguardo ma il diavolo fugge capito se va a rientrare nel fondo dell'inferno non lo sopporta capito non lo sopporta quindi se ci sta troppo tra i piedi la nostra vita nella divina volontà è ancora scarsina lo abbiamo cresce un po' se ne deve andare deve sparire non ci può stare a contatto con questo non ci può perché lui è l'antidivina volontà per l'antonomasi ancora ogni sofferenza ogni dolore fisico e spirituale che mi hai donato e che mi vorrai donare ogni fatica vissuta e che vivrò intendo unirle tutte alle tue sofferenze ai tuoi dolori alle tue lacrime alle tue piaghe alle tue fatiche perché come tu mi hai promesso diventino una sola cosa con le tue e così tu le possa usare a bene dell'anima mia e di tutte le anime dell'intera umana famiglia perdonami l'ardire mio Gesù ma sei tu che me lo insegni la santificazione di tutte le sofferenze della nostra vita nella divina volontà amato mio bene anche la gioia e la felicità che sono vissute nella divina volontà hanno valore forza e santità infinita quello che vi stavo accennando prima per questo intendo unire tutti i momenti di gioia e di felicità che mi hai donato e mi donerai fino all'ultima che vi farò da pellegrino alla gioia e la felicità che è come se del tuo sagratissimo cuore per gioire io della tua gioia e della tua felicità e tu gioisca della mia gioia e della mia felicità vissuta nella tua noi siamo le persone più felici del mondo chiaro la vita nella divina volontà è vita di felicità perfetta anche in questo mondo non sono i peccatori mondani i gaudenti e questa gente è qua quelli che sono felici questi sono dei morti che camminano non sono felici nessuno nessuno pensi una cosa del genere mai e per nessun motivo mai ancora anche la mia morte giorno bellissimo d'accordo da salutarlo con gioia d'accordo finalmente ecco il giorno della morte intendo unirla e fondere nella tua morte di croce come per la mia morte corporale è anche la morte che in ogni atto intendo dare alla mia volontà libera per crocifiggerla in te intendo seppellirla nel tuo cuore insieme a tutta la mia vita perché non abbia alito di vita se non nella tua divina volontà e come ho sepolto nel tuo cuore tutto me stesso anima corpo spirito e volontà così fuso e unito alla tua santissima umanità nella tua divina volontà intendo risorgere nella tua risurrezione alla vita del divino volere per scomparire per sempre dentro di te a gloria del padre tua Gesù e dello spirito santo qui possiamo poi continuare ripeto questo imbrogliaccio via se ho dimenticato qualche attimo o atto della mia esistenza li metto li rifaccio tutti per mezzo della tua vita tu mio dolce Gesù hai già vissuto tutta la mia storia l'hai vissuta come avresti voluto che io l'avessi vissuta bene amore mio quella stessa vita che hai vissuto tu per me intendo farla tutta mia e senza farmi sfuggire nemmeno un atto di quelli che tu hai vissuto per me intendo ripeterla istante per istante atto per atto palpito per palpito nella mia stessa vita per la sola tua allora e per il trionfo del tuo fiat a conclusione ecco mio Gesù ora sono una creatura nuova sono quella creatura che hai pensato e amato fin da sempre e per rimanere tale mi chiudo liberamente nella tua volontà prigioniere del tuo cuore e le chiavi le do alla nostra mamma perché le custodisca lei come la regina del tuo regno io non ho altro da aggiungere se non chi ci crede metta in pratica e vedrà gli effetti grandi che questi atti producono abbiamo questo tesoro abbiamo questa possibilità non solo di riscattare completamente la nostra esistenza ma davvero di rifarla nuova e tutto quello che purtroppo non abbiamo potuto vedere nel film reale della nostra esistenza a causa dei nostri peccati a causa della nostra umana volontà di tante altre cose lo potremo vedere un giorno in cielo nella misura in cui abbiamo rifatto come nostri tutti gli atti della nostra vita già fatti e completamente e integralmente sia da Gesù che dalla Madonna nella vita terrena bene quindi posso dire insomma che spero adesso di poterci lavorare un pochino in questi giorni che già in questa puntata potrò fare questo benedetto pdf in cui chi vuole esercitarsi in questo salutare esercizio potrà tranquillamente farlo il ciclo di catechesi non è finito perché avendo ancora un paio sicuramente due o tre puntate penso di fare un bel clue finale ecco con un'altra piccola rassegna degli scritti veramente straordinari andremo un pochino in alto con gli ultimi volumi ma il Signore ci aiuterà la mia benedizione su tutti santa settimana a tutti ave maria grazie a tutti Grazie a tutti.